ciao negli ultimi due video pubblicati in questo canale sono state mostrate delle semplicissime tecniche per controllare tanti led in particolare abbiamo visto come accendere facilmente uno dei led avendo già l'attrezzatura pronta vediamo come accendere più led in contemporanea collegando tanti led in una griglia quadrata o rettangolare dove i led della stessa griglia hanno l'anodo collegato in comune tra di loro mentre i led della stessa colonna hanno il catodo connesso in comune si può accendere uno dei led impostando solo sulla riga del led interessato un livello logico alto e solo sulla colonna del led interessato un livello logico basso riprendiamo il circuito del video della settimana scorsa dove è stata usata una griglia quadrata con 10 led in orizzontale e 10 led in verticale le righe sono connesse agli annodi dei led e gestite direttamente da 10 pin digitali di arduino mentre le colonne sono connesse ai catodi dei led gestiti da un decoder a 7.4 all's 42 e controllate tramite i pin a2 a3 a4 e a5 dell'arduino facciamo due piccole modifiche lo spostamento delle resistenze dai collegamenti delle colonne ai collegamenti delle righe e l'inversione dei fili che collegano le colonne vedremo tra poco perché l'ultimo sketch mostrato nel video precedente continua a funzionare perfettamente salvo ovviamente che adesso i led si accendono in verso opposto lungo l'asse orizzontale modifichiamo lo sketch al posto di gestire le colonne leggendo la posizione del cursore del potenziometro del joystick accendiamo in sequenza da sinistra a destra per poi ricominciare dal bordo sinistro il led delle varie colonne cancelliamo quindi la lettura del pin a1 e la successiva mappatura indentiamo il codice e lo raccogliamo all'interno di un ciclo for questo ciclo for spazzolerà le 10 colonne della matrice usando la variabile c carichiamo lo sketch adesso si accende un led lungo la riga 4 spostando la barra orizzontale del joystick non succede nulla ma spostando verticalmente la barra del joystick cambia la riga in cui si accende il led proviamo a ridurre il delay da 100 a 50 carichiamo lo sketch i led cambiano più velocemente ma non si nota nulla di particolare abbassiamo il delay a 20 carichiamo lo sketch adesso i led cambiano in modo molto veloce abbassiamo a 10 carichiamo lo sketch il movimento è diventato ancora più veloce ma nella registrazione video non si vede ancora un risultato interessante abbassiamo a 5 carichiamo lo sketch l'occhio comincia ad essere ingannato e a vedere una riga di led accesi anche se in modo non perfetto ma la videocamera è ancora abbastanza veloce per vedere la scansione dei led portando il delay a 2 millesimi di secondo l'occhio è praticamente ingannato e la videocamera che non è ad alte prestazioni riprende di fatto una riga di 10 led accesi durante l'intero ciclo 4 vengono spesi 20 mille secondi nei ritardi della funzione delay quindi i vari led si illuminano 50 volte al secondo se si considera trascurabile il tempo impiegato per eseguire le altre operazioni modifichiamo lo sketch togliamo la lettura del pin a 0 e la relativa mappatura aggiungiamo un array di interi chiamato logo in questo array scriviamo una serie di valori esadecimali vedremo dopo cosa significano nella funzione digital write scriviamo il bit in posizione i dell'elemento in posizione c dell'array logo carichiamo lo sketch nella matrice si vedono accesi alcuni led a mostrare una versione molto stilizzata del logo di arduino ogni valore dell'array corrisponde alla sequenza di bit che rappresenta i led accesi e spenti di ogni colonna il primo valore corrisponde alla colonna a sinistra e i bit meno significativi sono quelli dei led in alto il valore esadecimale 0x30 corrisponde ai led accesi nelle righe 4 e 5 il valore successivo è la seconda colonna da sinistra e il valore 0x48 fa accendere i led nelle righe 3 e 6 con lo stesso sistema si compilano le sequenze di led accesi e spenti per le altre colonne della matrice di solito i display dispongono i byte in orizzontale ma ho gestito i dati in verticale per rendere più semplice il prossimo sketch ne parlerò dopo il prossimo esempio modifichiamo lo sketch scriviamo un array di interi abbastanza corposo chiamato scritta i valori sono tutti unsigned int e li scriviamo in formato binario in questo modo sarà anche facile intuire il risultato che otterremo come anche fare modifiche o spostare grossi blocchi di dati velocizzo la scrittura di questi dati dal risultato sarà tutto chiaro come sono formati si potrebbe scrivere tutto il codice nella funzione loop ma servono quattro cicli for ciascuno annidato all'interno di un altro ciclo for e non sarebbe semplice da capire e gestire rinominiamo quindi la funzione loop e la chiamiamo matrice a cui sarà passato un valore intero come punto di inizio dei dati da usare per accendere i led scriveremo dopo una nuova funzione loop nella funzione matrice modifichiamo il digital write prendendo i dati dal nuovo array dalla posizione p ricevuta dalla funzione e per ogni colonna prendiamo i dati nelle 10 posizioni successive ovvero p più c prima del ciclo for impostiamo porta c al valore esadecimale 3c questo comando imposta a 1 i pin a 2 a 3 a 4 e a 5 inviando di fatto il valore 15 al decoder 74 ls 42 non essendoci nessuna uscita corrispondente a questa combinazione tutte le uscite del decoder saranno a livello alto e quindi nessun led si accenderà durante il ciclo for alla fine del ciclo for una volta impostate le righe viene inviato al decoder il codice corretto della colonna a cui impostare il livello logico basso in questo modo i led saranno accesi in modo molto più preciso la funzione matrice quindi prende 10 elementi dall'array scritta e accende alcuni dei led della matrice a seconda dei dati presenti in questi elementi riscriviamo la funzione loop creiamo un ciclo for con la variabile intera p che parte da 0 e termina 10 elementi in meno rispetto agli elementi dell'array scritta sizeof restituisce la dimensione in byte di una variabile quindi dividendo la dimensione dell'array per la dimensione di un elemento dell'array otteniamo esattamente il numero di elementi dell'array all'interno di questo ciclo for creiamo un altro ciclo for con dieci iterazioni in ciascune di queste iterazioni disegniamo la matrice partendo dall'elemento p compiliamo e carichiamo lo sketch l'effetto che otteniamo è carino ho composto questa scritta compilando l'array a mano durante i preparativi di questo video si potrebbe però comporre la mappa dei bit usando un font ufficiale in modo da poter usare direttamente un testo asci oppure evidenziare parti del testo con effetti tipo il grassetto o volendo esagerare rendere lampeggianti alcune parti della scritta come ho già anticipato di solito le immagini vengono mappate riga per riga ma se avessi usato questa tecnica avrei dovuto scrivere codice più intricato per gestire lo scorrimento di un testo lavorando per colonna invece il risultato è stato più semplice da ottenere si può facilmente intuire anche che il ciclo for con la variabile d determina la velocità di scorrimento del testo i led vanno accesi 50 volte al secondo per avere una buona persistenza di immagine per cui mostrando 10 volte la stessa sequenza di dati prima di incrementare il puntatore p si ha uno scorrimento di 5 led al secondo aumentando la quantità di iterazioni della variabile d il testo diventa più lento questo tipo di funzionalità viene ovviamente gestito con moduli di led già pronti e già collegabili in cascata che si possono pilotare con pochi fili usando un protocollo seriale oppure simile a quello di registre a scorrimento e probabilmente si possono trovare già pronte molte librerie per arduino per gestire questi moduli in questo video però volevo utilizzare componenti molto semplici praticamente solo arduino led e resistenze l'unico componente complicato che sono stato costretto ad usare per la mancanza di pin in arduino è stato il decoder 74 ls 42 occorrerebbe anche valutare bene la corrente che possono erogare i vari pin di arduino e del decoder se i led fossero molto più numerosi potrebbe essere necessario ricorrere a una serie di transistor ma per questo esperimento ce l'abbiamo fatta se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere e se avete suggerimenti o proposte scriveteli nei commenti grazie per la visione ciao a tutti